Da tempo documentiamo lo stato di abbandono delle case popolari gestite da Aller e le segnalazioni da parte dei residenti continuano ad arrivarci. L'incuria si moltiplica per la mancata manutenzione, le infiltrazioni e le muffe non vengono risanate, i campanelli rimangono guasti per mesi, i portoncini d'entrata rotti non vengono sostituiti, l'elenco è lungo e visto il progetto di ristrutturazione degli alloggi bresciani, nonché quello di diversi appartamenti a Milano, abbiamo chiesto all'assessore regionale alla casa Paolo Franco a Cremona per appoggiare la campagna elettorale del candidato sindaco Alessandro Portesani quando sarà il momento per la riqualifica degli appartamenti cremonesi. A Cremona sarà brevissimo anche perché l'Uoggi di Cremona che fa parte dell'Aler Brescia-Cremona-Mantova insieme hanno stabilito un piano non solo di manutenzione straordinaria ma hanno anche partecipato a una serie di bandi che l'assessorato ha messo in campo e che con buona probabilità ricorreranno anche in termini proprio di attuazione nei prossimi mesi. Tre problemi principali è la comunicazione tra i residenti delle case popolari e l'azienda Aler. Ma oggi il tema più importante è quello attraverso la rete diciamo di quelli che sono poi anche i rappresentanti per ogni stabile di ogni condominio che fanno riferimento proprio ad Aler come capita nel mondo del privato ai quali è stato chiesto di verbalizzare nelle loro riunioni e anche di interagire al di là della mele o del numero verde o di altre cose. Molte volte segnaliamo delle situazioni per cui chi si lamenta e chiede a colui che non paga mentre chi invece paga legalmente tace e sta zitto anche rispetto a delle comportamenti non proprio equi all'interno dello stesso condominio. Non sono dello stesso parere i condomini paganti che in diverse occasioni hanno lamentato l'impossibilità nel comunicare con Aler, azienda che sembrerebbe non rispondere nella maggior parte dei casi. Si vede che c'è l'infiltrazione ecco. E adesso cosa dovrebbe fare? Dovrebbe mandare una segnalazione ad Aler? Eh sì, abbiamo già chiesto, però non risponde mai nessuno. Abbiamo rotto, noi abbiamo segnalato anche all'Aller, niente, poi è impossibile parlare con l'Aller, ci vuole l'impresa, io non so, non so più. Allora.